Buonasera e ben trovati. Nuova puntata di RTTR Volley, si è interrotta ieri la striscia di nove vittorie consecutive della Diete, che del resto non era una partita semplice, lo si sapeva. Questa sera analizzeremo quanto è successo anche nelle altre partite di Superlega in compagnia del paleggiatore di Trento, Pierpaolo Partegno. Buonasera e benvenuto. Ciao, grazie mille, buonasera. Allora, com'è l'umore oggi dopo questa sconfitta casalinga? Ma diciamo che la partita è andata, quindi voltiamo pagina e pensiamo subito alla prossima, anche perché ci aspetta un periodo con tantissime partite, quindi non c'è molto tempo di analizzare le scorse e pensiamo subito alle prossime. Certo, ovviamente c'è già da pensare alla Champions, ne parleremo tra pochissimo. Diciamo che perdere ci sta, soprattutto con Civitanova, un po' brutto vedervi perdere al 13, al 14, un po' arrendevoli in certi momenti da partita. Sì, diciamo l'unico rammarico, magari possono essere il primo, il quarto set dove non siamo stati attaccati, l'abbiamo lasciati un po' andare, il secondo, magari gestito un po' meglio, poteva finire diversamente, chissà. Sì, con una squadra come la loro ci può stare una sconfitta, siamo consapevoli che comunque non sono tanto lontani da noi, quindi questo comunque ci incoraggia a continuare a lavorare bene in palestra e puntando a fine stagioni a arrivare con gli stessi risultati loro, se non meglio, vediamo. Allora, andiamo subito a vedere come è andata ieri nel primo servizio di questa puntata. Dopo nove vittorie consecutive arriva lo stop per la Diatec, fermata in casa da Civitanova, un avvio assolutamente da dimenticare, primo set perso malamente, due combattuti e un quarto parziale, in cui la Diatec si accascia scambio dopo scambio. Con Depandis reduce dall'operazione al menisco e fermo ai box, Lorenzetti è costretto a giocare con Chiappa sia in fase di difesa che di ricezione. Matteo fa il suo in maniera egregia, nonostante la Lube lo prenda di mira e assieme a Kovacevic è il migliore tra i suoi. Continua invece il momento no di Luca Vettori, l'opposto ritrova il suo posto nello starting six ma non ne approfitta, chiude con un misero 27% in attacco, nonostante il muro di Civitanova non vada mai a cercarlo in maniera eccessiva. Peccato per la Diatec che nemmeno Teppan si è inserata nel momento in cui Lorenzetti tenta il cambio. Gli schiacciatori scelti sono invece Lanza e Kovacevic, con il primo che non trova ritmo in battuta, sette errori per lui e alterna momenti buoni ad altri di blackout in attacco. Più frizzante Euros, best scorer con 17 punti e il 52% su palla alta. Al centro spazio la coppia Eder Zingel, il brasiliano si conferma in ottima forma nonostante stavolta Giannelli lo cerchi molto meno. In battuta è l'unica certezza di serata, meno bene l'australiano che verrà poi sostituito da Kozar Mernik più concreto. Dall'altra parte, Wontorin ha recuperato dal mal di schiena che costrinse Medea a toglierlo durante il match contro Latina e scende in campo dal primo scambio. Prova positiva la sua con 17 punti personali, ma è l'altro ex di giornata a creare vero scompiglio. Zvetan Sokolov fa quello che vuole, chiude con 21 punti e il titolo di MVP. I parziali, il primo set si vede solo la Lube che chiude con un esagerato 25-13. Nel secondo Trento reagisce ma cede ai vantaggi 26-28. La reazione prosegue nel terzo set con la Dietek che va a riaprire la partita vincendo 25-20. Civitana va a vola su altri livelli e si vede nel quarto parziale quando riprende il controllo del gioco e vince il set al 14. Il match è 3-1 e tiene il passo di Perugia, confermandosi tra le favorite di questa Superlega. Qualche ramarico soprattutto per il secondo set per Paolo Iris e poteva andare a chiudere. Forse sarebbe cambiata anche mentalmente la partita. Sì, magari mentalmente ci avrebbe dato una spinta in più per ripartire al meglio il terzo set. Servono queste partite, servono questi set. Cercheremo di migliorare da questi piccoli errori che commettiamo ora, magari per non commetterli più in futuro. Ti chiederò nella seconda parte di questa nostra trasmissione della tua scelta di venire a Trento, ma ti anticipo una domanda. Cosa si prova quando si è lì a bordo campo e si vede la squadra che non reagisce come dovrebbe? Non ti viene la voglia di entrare e di fare qualcosa? Sì, sì, quello sicuramente. Quando vedo anche la squadra un attimo in difficoltà vorrei entrare e dare una mano, però so che il ruolo mio, so qual è il ruolo mio, quindi lo accetto molto volentieri. Se odio di essere venuto qui a Trento, dare una mano a Simo quando ne servirà. Però il pala a Trento, l'atmosfera che crea, comunque è molto bello essere in campo. Certo, chiaro, poi l'adrenalina ti fa venire voglia di entrare di più. Andiamo a sentire i commenti tra l'altro proprio di Simone Giannelli e di altri protagonisti del match di ieri. Peccato per il secondo set perché è stata una rotazione che ci ha fatto perdere con il set lì, che è stata la P1. Mi ha commesso delle sciocchezze che ci hanno penalizzato per tutto il set perché eravamo sopra noi il secondo. Quindi, poi sono stati vinci nel terzo, però insomma la Lube comunque, appena gli dà un po' di occasioni, loro sono lì. Mi spiace bene il ramarico per cui il secondo set lì, che avevamo giocato molto bene, ma per una rotazione abbiamo perso il set e ha compromesso poi la partita insomma. Il 21-19, ma prima eravamo anche sopra di un bel po', mi sembra adesso non ricordo il parziale, però 4-5 punti. In quella rotazione lì ci hanno fregato, abbiamo gestito male delle palle, tutti quanti, io compreso, insomma, e abbiamo perso la partita. Abbiamo giocato molto bella pallavolo in secondo o terzo set, non siamo riusciti a prendere l'opportunità in secondo set, abbiamo praticamente buttato quello alla fine, sono veramente dispiaciuto perché di là cambiava la partita. Siamo tornati in partita in terzo set, abbiamo dimostrato un bellissimo pallavolo, una vera squadra e purtroppo quarto set ancora abbiamo iniziato male, però loro comunque sono una grande squadra, grandi complimenti per la Lube perché hanno dimostrato anche loro, in quarto set hanno partito molto veloce, combattute molto importanti, allora non siamo riusciti a tenere il livello di loro. Quando si gioca contro di Lube puoi vincere solo se vai in vantaggio, allora eravamo preparati per quello, purtroppo quello secondo set è scappato, però comunque noi abbiamo, secondo me abbiamo giocato un bel pallavolo, almeno secondo o terzo set, e anche secondo me tanta gente qua in bello pallavolo a Trento si è divertita e per quello sono anche molto contento. È stata la costanza della battuta deficitaria, a parte il giro di Eder, è uno strappo piccolino di Uros, e lì ti devi affidare allora sempre al cambio palla. Con i due set abbiamo avuto difficoltà nell'attacco, la Civitanova ha costruito il solco, gli altri due set abbiamo attaccato meglio, siamo riusciti a fare cambio palla, siamo riusciti ad avere fiducia, il secondo set, quella più uno insomma è colpa mia perché ha tornato a modificare l'assetto, e lì speravo con un cambio di Teppan di poter fare cambio palla, poi non è stato, insomma lì quella fase lì ci ha penalizzato molto, altrimenti magari quel set lì lo potevamo portare a casa, dopo non è detto che il terzo set sarebbe finito come è finito il successivo, però insomma se l'è stato uno pari, avremmo altri due set per conquistare un altro, cercare un punto. Diciamo che sapevamo della difficoltà, non l'abbiamo affrontata con tutte le nostre armi, però insomma la pressione che ti mettono loro è tanto e sai che se te non ti esprimi a livelli alti a volte riescono a costruire questo gap, che l'hanno costruito, non per tutta la partita e adesso passiamo avanti. Sono veramente forti loro, è difficile giocare con loro, bisogna andare tutti bene e tutti al massimo, stasera abbiamo avuto alti e bassi vari, insomma da vari giocatori, si è visto che andavamo in difficoltà spesso, soprattutto quando loro battevano forte, staccavamo la palla, loro a muro sono forti, è stato difficile, peccato perché avevamo una bella occasione in casa, però la nostra trafila lunga di vittoria non va dimenticata, va ricordata, anzi va esaltata perché appunto adesso ci aspettano dei partiti importanti. Sì diciamo che senza il ricettore Daniele Depandis proprio in questa partita non vi ha aiutato. Ma sì, per carità Matteo ha fatto un'ottima partita, titolare con queste partite qua non è semplice, era la prima volta per lui, insomma tante belle occasioni per lui, faccio i miei complimenti perché nonostante la sconfitta lui si è destreggiato bene, recupereremo sicuramente Depandis per gli appuntamenti importanti, cercheremo di fare qualcosa in più, soprattutto in attacco in battuta questa sera, è andata come è andata. Prima di andare a chiudere il capitolo dedicato alla partita con Civitanova, chiedo a Pierpaolo che c'è cresciuto, c'è nato e è cresciuto nelle Marche, quindi Civitanova la conosci bene, tu hai fatto le giovanili proprio lì. Sì, sì esattamente, ho fatto tutte quante le giovanili fino alla Junior League, per poi uscire e proseguire nei vari club. Che mondo è, che situazione pallavolistica c'è? No, nella regione comunque si respira molta pallavolo perché oltre alla lube comunque ci sono altre realtà sia di serie A maschili che femminili, quindi è una regione che vive di sport, vive di pallavolo. Allora andiamo a vedere gli altri risultati, abbiamo visto Trento Civitanova 1-3, Monza-Perugia vittoria nell'anticipo degli Umbri per 3-0, 3-0 anche tra Modena e Verona, Piacenza 3, Latina 2, Sorapadova 1-3, Ravenna-Milano 0-3, Vibo-Valenzia-Castellana-Grotte 3-2. Con la classifica che vede Perugia in testa, Civitanova ad un punto, 48-47, 42 punti per Modena, 10 in meno, 32 per Verona che deve recuperare una partita così come Trento, che è quinta a 30 punti, 29 per Padova, 28 per Milano, Piacenza 27, Ravenna 25, altra squadra con una partita da recuperare a Latina che ha 19 punti, 18 Nea-Munza, Vibo-Valenzia 12, Castellana-Grotte l'ultima formazione che dovrà recuperare un match, quello del 24 gennaio con Trento, 8 punti, chiude la classifica Sora a 7 lunghezze. Per Paolo, se tu avessi dovuto farti un'idea a inizio anno della classifica di questa Superlega, è così che te la saresti immaginato o c'è qualcosa che ti sorprende a questo punto? No, diciamo che ad oggi la classifica un po' rispecchia i pronostici iniziali, magari qualche squadra in questo momento è un po' più giù, qualcun'altra è leggermente superiore, ma più o meno ci si poteva aspettare una classifica del genere. Per quanto riguarda Trento, diciamo che c'è stato un avvio un po' difficile, eravate tutti nuovi, dovevate fare spogliatoie, dovevate trovarvi in campo, però è adesso che comincia la fase decisiva dell'anno tra Champions e Superlega, poi ce la fai nella Foro di Coppa Italia. Sì, sì, certo. Noi sicuramente non ci accontentiamo del nostro quarto barra quinto posto, cercheremo sempre di puntare più in alto possibile. È vero che la squadra quest'anno è stata completamente rivoluzionata, quindi magari alla nostra formazione serve un attimo più di tempo per giocare insieme, per i meccanismi e tutto quanto. Quindi sì, adesso inizia il bello, abbiamo le finali di Coppa Italia, dobbiamo terminare il giorno di Champions, quindi abbiamo una partita in casa subito con la squadra turca e tutto il giorno di ritorno del campionato, quindi sicuramente sarà un mese e mezzo molto ricco e impegnativo per noi. Ecco, prima di andare a raccontare un po' della Champions, di come vi state preparando anche per giovedì, quindi parliamo un attimo di te, insomma, che sei arrivato a Trento quest'anno. Che cosa ti ha portato qui, dove sapevi che avresti trovato Simone Giannelli, potevi magari fare una scelta più per giocare, per fare esperienze, hai preferito arrivare in un club che puntava in alto? Ma tutto è partito da una chiamata di Trento, dove mi hanno invitato le tre settimane che loro organizzano già da un paio di anni, con tutti i ragazzi delle giovanili che danno in prestito. e sono venuto qui a fare, tra queste tre settimane di allenamento. Sono state molto interessanti, molto piacevoli, ho avuto la possibilità di conoscere Angelo. Questo sicuramente è stato uno dei motivi per cui oggi sono qui. Mi incuriosiva un po' questo ambiente, questo mondo, questa realtà che tutti ne parlano bene. volevo allenarmi ad alto livello e avere un allenatore, uno staff tecnico molto qualificato. Quindi sicuramente questi aspetti sono quelli che mi hanno portato alla scelta di Trento. e essere nel ruolo di una persona come Simone è uno stimolo grandissimo, non è assolutamente un aspetto di concorrenza. Quindi anche la sua figura, la sua presenza qui è stata determinante. Andiamo ancora più indietro. Cosa ti ha portato verso questo mondo? Tu arrivi da una famiglia tutta di pallavolisti, dal papà alle sorelle, giocati tutti, però tu avresti avuto anche un'alternativa. Sì, è una famiglia di pallavolisti. Quando ero piccolo praticavo anche calcio. Ci sono stati più o meno 4-5 anni dove ho alternato. Ho praticato entrambi gli sport. Poi... Piaci la verità, quale ti piaceva di più? Eh, quando ero piccolo mi piaceva un po' più il calcio. Poi la scelta un po' forzata, data da un infortunio che ho avuto alle ginocchia per la crescita, mi ha portato alla scelta dello sport e in maniera più specifica nella scelta anche del ruolo. Però è un ruolo stimolante questo, forse crescendo lo hai apprezzato poi di più. Sì, esattamente. Quando ero piccolo apprezzavo di più il calcio perché ci si divertiva di più. Quando ho scelto la palla a volo apprezzavo di più lo schiacciare. Crescendo comunque sì, mi sono accorto che secondo me è il ruolo più bello che ci sia, quindi sono contento. Quindi non sei stato tentato di cambiare in età adulta, magari anche provare, perché la statura ce l'avresti. No, 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 sono rimasto fermo e convinto della scelta del ruolo. Andiamo a scorrere velocemente un po' la tua carriera da quando hai cominciato quello che ci stavi raccontando fino ad oggi a Trento. Tu hai vinto anche molto, soprattutto nei giovanili, quattro scoletti giovanili, una Coppa Italia e poi ai giochi del Mediterraneo e soprattutto hai vinto anche la Serie A2 con Potenza Picena. Quali di queste emozioni ti ha segnato di più? Ma quella della promozione A2 è tantissimo, anche perché sono arrivato a Porto Potenza con altri tre giocatori della Lube che avevano giocato con me, quindi dopo un anno che siamo usciti dalle giovanili ritrovarci lì è stato fantastico. Era un gruppo giovane, una squadra under 23, dove l'obiettivo era quello di entrare nel playoff, così ce l'ha stato detto. Col proseguire della stagione stava andando tutto quanto bene, abbiamo sfiorato la Coppa Italia che l'abbiamo persa al tie-break e abbiamo vinto il campionato, quindi sicuramente quella stagione lì è stata molto significativa per me. Quest'anno tu sei arrivato qui ovviamente sperando di fare esperienze e di vedere un ambiente diverso, però anche immagino con qualche ambizione. Certo, certo, sicuramente. Arrivare in una società del genere è tanta roba comunque, quindi già essere qui per me è un onore. Se nel corso della stagione ci sarà modo di mettersi in mostra o di dare solamente un contributo, una mano alla squadra, molto volentieri. Cercherò di sfruttare al meglio l'occasione che mi verrà data per aiutare i compagni. A proposito di occasioni, si comincia giovedì, lo avevamo già anticipato con la Champions League. Questa competizione che avete cominciato abbastanza bene, avete perso una partita al tie-break che vinta a punteggio pieno un altro, che clima si respira in Europa, come ti sembra? Qual è il livello? Il livello è buono, il girone è molto competitivo. Non ci sono magari squadre che affrontando, uno dice, sulla carta è debole, assolutamente. Quindi noi cercheremo di fare il mio risultato in tutte le partite, sia che giochiamo in casa, sia che giochiamo fuori, come abbiamo dimostrato in Polonia. Cercheremo sicuramente di passare il girone e andare il più avanti possibile. Quest'anno non c'è l'impressione che voi subiate, ma tu ovviamente non l'hai vissuto, ma l'anno scorso sembrava che in trasferta la squadra subisse molto di più. Invece quest'anno sembrate molto regolari anche nelle partite fuori casa. Sì, sì, sì. Diciamo che non c'è differenza. L'unica cosa che ci teniamo sicuramente è quello a far bene, a far risultato in casa, davanti al nostro pubblico. Se no, in trasferta diamo il massimo e proviamo a dare il meglio. Allora, andiamo a vedere il prossimo servizio che ci racconta della partita di giovedì sera 20.30 al Palatrento. La Champions League arriva al Palatrento. Dopo i primi due match della fase a gironi, giocati in trasferta, è la volta di inaugurare la stagione casalinga anche per la massima competizione continentale. L'attesa è durata 670 giorni, tanti quanti sono trascorsi dall'ultima sfida di Champions al Palatrento. L'appuntamento è per giovedì 18 gennaio, ore 20.30. Trento è seconda nella Pool E, dopo la vittoria a punteggio pieno sui belgi del Maseic e la sconfitta al tiebreak subita in casa dei polacchi dello Zaxa. L'avversaria arriva questa volta dalla Turchia. Si tratta dell'Itzmira, dell'allenatore canadese Glenn Hug, padre del giocatore della Diatek Nikolas. In rosa, tra gli altri, il palleggiatore della nazionale serba Nikola Jovovic, ex Monza, l'opposto cubano Sanchez Bozulev e lo schiacciatore tedesco Christian Fromm. La partita è compresa nel pacchetto di abbonamento stagionale. Dunque non c'è tempo né di leccarsi le ferite né, se così fosse stato, di festeggiare dopo Civitanova. Pierpaolo, domani già si comincia a preparare questa nuova partita. Esattamente, domani iniziamo a preparare la partita di Champions League contro la squadra turca. Domani avremo una doppia seduta per poi mercoledì un altro giorno di tecnica e giovedì subito in campo. Come si comincia? In campo o visionando video e studiandola a tavolino? Ma sicuramente con una seduta a pesi domani mattina. Ok. Poi sì, faremo... Angelo ci dirà qualche indicazione innanzitutto per poi poterla riportare in allenamento e magari mercoledì e soprattutto giovedì fare le sedute video. Abbiamo sentito anche nel servizio che in questa squadra c'è un allenatore che è un vostro compagno di squadra, Nicola Sog conosce molto bene. Alcuni si sono stupiti anche di non vederlo in campo ieri a un certo punto quando soprattutto Filippo Lanza ha avuto qualche difficoltà. Ci puoi dire qualcosa se potrà giocare, come sta? Sì, ha avuto un piccolo problemino alla spalla e penso che lo staff medico abbia deciso di non rischiarlo. Vedremo alla ripresa degli elementi domani come sarà la sua situazione. Speriamo sì, poterlo vedere in campo giovedì o comunque sia che sia disponibile perché un giocatore come lui è sempre utile, ha dimostrato di essere utile alla squadra. Allora, abbiamo sentito giovedì si gioca 20-30, partita compresa in abbonamento, e domenica invece c'è un altro appuntamento di Superlega. Vediamo il servizio sui prossimi impegni. Doppio impegno tra Champions e Superlega per la Diatec nella settimana che si apre oggi. Gli uomini di Angelo Lorenzetti apriranno la stagione casalinga di Coppa contro i turchi dell'Itsmir giovedì 18 gennaio ore 20 e 30 per il match valido per il terzo turno della Pool E. Tre giorni dopo, domenica 21 gennaio ore 18, torna invece la Superlega con la trasferta di Verona, valida per la sesta giornata di ritorno della regular season. Il turno si aprirà già nella serata di venerdì 19 gennaio con la sfida di Latina fra Taiwan Excellence e Tonno Calipo Vivo Valencia. La sera successiva, sabato 20 gennaio sempre alle 20 e 30, tocca a Milano scendere in campo contro Piacenza. Domenica 21 alle 18 tutti gli altri match. Oltre Calzedonia-Diatec si giocano Civita-Nova-Modena, Castellana-Grotte-Monza, Padova-Ravenna, Perugia-Sora. Abbiamo sentito gli impegni di questa settimana, con Pierpaolo volevo già anticipare un po' la prossima perché sarà una settimana tutta al sud, tutta a Bari perché c'è il recupero della partita con Castellana-Grotte e poi c'è la Final Forti Coppa Italia. Sì, esattamente. Abbiamo questo doppio impegno a Bari dove andremo giù il martedì per affrontare il Castellana-Grotte e la partita di campionato e dobbiamo recuperare il mercoledì. Sede della Coppa Italia a Bari, quindi perfetto, rimaniamo giù. Il venerdì ci sarà l'allenamento di rifinitura per testare il campo e poi questa manifestazione molto bella, molto importante con le stesse squadre che abbiamo affrontato in Supercoppa. Queste tre squadre, Perugia-Modena e Civitanova, voi le avete affrontate recentemente tutte e tre. Secondo te qual è quella al momento più in palla, più in forma? Sono molto diverse tra loro. Sì, sono molto diverse. Diciamo che Modena nelle ultime settimane ha avuto qualche problemino di formazione, quindi magari in vantaggio partono la Lube e soprattutto Perugia che non a caso è prima in regola del season. Ti chiedo anche un commento tornando alla nostra squadra. Daniele Depandi ha superato il ginocchio, spazio per Matteo Chiappa. Come lo hai visto? Che bella occasione ha avuto? Anche come bene l'ha sfruttata ieri? Sì, sì. Io ho fatto i complimenti a lui ieri dopo la partita, ma anche in altre occasioni. Dispiace per Daniele per questo intervento che ha avuto. Anche a lui sono andato a trovarlo il giorno che si è operato. Come sta? No, no, sta molto meglio. Ha iniziato il giorno seguente l'intervento, ha iniziato subito la riabilitazione. Si vede che è un ragazzo che ha voglia di tornare subito in campo e dare una mano come ha fatto fino adesso. Per Teo sono contento perché comunque le volte che si è alternato con Daniele ha sempre sfruttato l'occasione. In questo momento che deve ricoprire appieno il ruolo del libero anche in fase di ricezione, se la sta cavando bene, ieri si è visto. Ti chiedo le tue ambizioni per quest'anno per chiudere in bellezza. Sia ottimista. A cosa ti piacerebbe arrivare? Non voglio fare una scaramantica. La Champions è una competizione molto difficile. Non è facile arrivare in fondo. Ci proveremo fino alla fine sicuramente. Però tra Campionato e Coppa Italia, tra le due, a livello di difficoltà, il campionato è quello un po' più complicato. Quindi magari la Coppa Italia sono due partite secche, un po' più abbordabile. Però ovvio che lo scudetto è quello che vorrebbero un po' tutti quanti. Una convocazione in azzurro? Ma quello lo spero sempre, sicuramente. Tu hai già vinto i giochi del Mediterraneo con la Maglia Nazionale. Sì, con la Maglia Nazionale ho vinto i giochi del Mediterraneo, a cui c'erano anche Pippo e Betto. Sì, ovvio che avendo fatto tutte quante pre-uniones, juniores e la Nazionale B, uno ambisce comunque sia sempre al massimo. Quindi ovvio che una convocazione in azzurro sarebbe perfetto. Si vorrà. Sì, si vorrà, vedremo. Intanto buon lavoro e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qui per questa puntata di Artitiare Volley. A seguire, se la volete rivedere, c'è la differita della partita contro Civitanova, vinta dai marchigiani per 3-1. Noi ci rivediamo qui tra una settimana, 21.30, lunedì prossima. Buona settimana. Grazie a tutti.